Vice sindaco Tacchetti, il primo giugno dovevano partire le cosiddette strisce blu, i parcheggi a pagamento qui nel comune di Roseto degli Abruzzi, in tutto il territorio rosetano, ma così non è perché manca ad oggi il gestore. Sì, la ditta che avrebbe dovuto gestire i parcheggi a seguito di una procedura di evidenza pubblica non è stata individuata, per cui adesso il responsabile del procedimento, il comandante di Polizia Municipale, sta vedendo di trovare una soluzione alternativa che potrebbe essere anche un affidamento ponte in attesa della nuova gara d'appalto per la gestione dei servizi di parcheggi a pagamento fino al 31-12-2023. Naturalmente prendiamo atto che la scelta di istituire i parcheggi a pagamento a Roseto è stata giusta, è stata poi ben digerita da parte della cittadinanza che adesso chiede proprio l'istituzione dei parcheggi a pagamento. Quindi le difficoltà iniziali, tutte le polemiche, le critiche che ci sono state all'inizio con l'introduzione delle strisce blu sono state tutte superate e quindi l'amministrazione prende atto di aver centrato un obiettivo che è stato poi utile per la cittadinanza e per le attività commerciali. Naturalmente si tratta ancora di qualche giorno di attesa, sicuramente si individuerà una soluzione a breve perché l'obiettivo dell'amministrazione è quello di non fare l'estate senza parcheggio e pagamento. In vista però della stagione dell'imminente inizio della stagione balena restiva, i disagi che aumentano? I disagi aumentano per i problemi che ci sono sempre stati, cioè la carenza di posti dopo dal fatto che ci sono persone che lasciano le macchine per intere settimane parcheggiate negli stalli pubblici. Quindi la soluzione delle strisce blu voleva proprio evitare questo, che ci fosse un ricambio nella gestione della sosta per dare la possibilità a tutti di poter usufruire di questo importante servizio che serve appunto per tutte le attività presenti qui sul territorio.